Salve, io sono Mauro Valeri, responsabile commerciale di questa piccola azienda che si chiama Sama. Noi ci occupiamo di laccatura e lucidatura mobili per conto tessi e siamo su un mercato da circa 32 anni. Lavoriamo con gli artigiani, lavoriamo con le piccole realtà lavorative, ma lavoriamo anche per le grandi aziende. Nasciamo con un cuore artigiano e siamo arrivati oggi a un certo tipo di tecnologia che ci permette di fare anche grandissimi quantitativi di lavoro. Lo scopo di questo video è anche per far capire a voi come nasce la laccatura. La maggior parte delle volte le persone acquistano prodotti in ferramenta, ma con tutto rispetto parlando, e applicano vernici senza sapere cosa fanno. Tutti abbiamo un mobile lacchato dentro casa, ma qui vedrete come nasce la laccatura e quindi capire il ciclo lavorativo esatto per rendere i vostri mobili ancora più belli. Venite con noi!